Grazie a tutti. Assessore al Comune di Brescia, il sottosegretario agli affari economici Onorevole Saglia e Gianmarco Quadrini. Volevo dirvi la motivazione anche perché è venuto in questa occasione l'Open Day due persone che sono due personalità della Romania. Il senatore Kelaru, che è vicepresidente del Senato della Romania, l'ho invitato perché da tanti anni lui mi sta aiutando con la ricerca del personale il più affidabile in Romania. E tutti i dipendenti che noi abbiamo avuto dalla Romania sono arrivati attraverso le segnalazioni e le certezze che erano persone competenti e persone di famiglie molto serie. Il vescovo Joachim Bacauanul l'ho invitato perché lui è il mio padre spirituale in Romania. Molte volte quando io sono in Romania sono direi solo e lui mi chiama ogni volta che vado, mi chiama a casa sua e mi tiene a confortarmi per quelle che possono essere delle preoccupazioni importanti che non sono solamente per il mondo del lavoro. Siamo qui oggi per celebrare non solo un anniversario molto importante per i miei 50 anni di lavoro, ma anche per festeggiare la realizzazione di un progetto che ho l'onore e la soddisfazione di potervi presentare, definendolo l'ennesima sfida per la società da me rappresentata, l'ampliamento della Franchini Acciai. Ringrazio quindi i rappresentanti del clero e delle istituzioni. Ringrazio i nostri clienti ed i nostri fornitori che hanno contribuito anno dopo anno alla crescita della Franchini Acciai e tutti gli ospiti indistitamente che insieme a me e alla mia famiglia festeggiano questi due significativi eventi che non riesco a considerare come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza verso nuovi traguardi nella consapevolezza che è l'uomo l'artefice della propria vita O meglio, per utilizzare un termine più tecnico e consono al luogo dove ci troviamo, nella convinzione che è l'uomo a forgiare il proprio futuro. E' un grande onore per me aprirvi le porte della società che ho fondato con mio fratello e che ora gestisco potendo contare con soddisfazione paterna sul valido aiuto dei miei figli Alessandra ed Alberto. La vostra partecipazione è motivo di grande orgoglio perché non è soltanto il riconoscimento di tanti anni dedicati al lavoro, compassione, sacrificio ed impegno ma è anche la conferma della stima di cui gode la Franchini Acciai Vi domanderete per quale motivo ho scelto di celebrare questi due anniversari con un Open Day quando di norma le famiglie aprono per i festeggiamenti i saloni delle loro abitazioni e tirano a lucido l'argenteria La risposta è semplice. Ho preferito aprire i cancelli della società perché lo stabilimento è un po' la mia casa ed attraverso i capannoni che oggi saranno il salotto di questa abitazione che condurrò tutti voi per mostrarvi dove quotidianamente la grande famiglia della Franchini Acciai e quindi i miei figli ed io, i miei collaboratori e le maestranze tutte lavorano con professionalità e grande competenza producendo pezzi forgiati destinati a molteplici settori industriali Prima di dare inizio alla visita consentitemi di rendervi partecipi dell'emozione che provo nel rivolgere il pensiero a tanti anni fa Erano anni di grandi sacrifici, di svegli all'alba e di corse affannose per raggiungere la stazione e non perdere il treno che mi avrebbe condotto a Visano presso l'Ofar ove per molti anni ho prestato la mia attività lavorativa come forgiatore Erano anni in cui, alla sera, la stanchezza per la dura giornata di lavoro, appena terminata non mi impediva di arricchire le mie conoscenze frequentando la scuola serale In quei giorni e nei momenti dello sconforto come in quelli della gioia ho sempre avuto a mio fianco mia madre una donna di solidi principi morali che mi ha aiutato e sorretto incitandomi a credere nel mio lavoro e nelle mie capacità che mi ha spronato a non limitare i miei orizzonti al mestiere di forgiatore ma a dare sempre il meglio di me stesso persuadendomi che solo così sarei riuscito in un domani a realizzare progetti ambiziosi Anche mio padre, grande lavoratore, mi ha guidato e mi è stato di grande esempio Dopo la sua scomparsa venuta quando avevo solo 16 anni non sono rimasto solo perché ho potuto contare sul forte sostegno di mio fratello santo Forti degli insegnamenti ricevuti dai nostri genitori che ci hanno inculcato il valore della famiglia e della solidarietà ci hanno fatto crescere complici ed uniti nel rispetto reciproco del lavoro Ed è anche quando il nostro cammino si è diviso perché ognuno di noi ha imboccato la propria strada il nostro affetto e la stimo reciproca non sono mai venuti meno come del resto non è mai venuta meno la mia riconoscenza La società da me rappresentante nonostante le allettanti offerte e le agevolazioni prospettatele da altri paesi ben lieti di accogliere gli investitori stranieri ha deciso per fronteggiare questo momento di grande difficoltà economica per il nostro paese, per la nostra regione, per la nostra provincia di potenziare la propria attività produttiva è questa la nuova sfida che la famiglia Franchini ha deciso di raccogliere consapevole che i periodi di crisi si possono superare solo se gli imprenditori fanno gli imprenditori e cioè se accettano di mettersi nuovamente in gioco ponendosi delle mete sempre più alte ed investendo nella propria azienda e ciò non solo per ricavarne un utile d'impresa ma anche perché creare lavoro e benessere a beneficio del proprio territorio e di tutta la collettività i miei figli ed io crediamo incondizionatamente nelle grandi potenzialità della nostra società che può e deve crescere e migliorare ulteriormente per rimanere protagonista sul mercato e per continuare ad essere il volano dell'economia della nostra comunità sono perciò lieto che nel futuro della nostra società abbia creduto anche il comune di Mairano che ha approvato il nostro progetto che prevede la relazione su di un'area di circa 105.000 metri quadri attigua all'attuale stabilimento di un complesso di edifici destinati ad ampliare l'attività produttiva aventi metri quadri 41.738 circa di superficie coperta l'intervento previsto consentirà alla Franchini Acciai di ampliare la propria gamma dei prodotti e soddisfare le esigenze dei propri clienti migliorando nel contempo la qualità del lavoro per tutti i propri dipendenti il progetto che tiene in debito conto anche dell'impatto ambientale e che rispetta nel contempo tutte le norme a tutela dell'ambiente prevede una ripartizione più razionale degli spazi produttivi e l'installazione di nuovi impianti e di nuovi reparti tengo a sottolineare con grande soddisfazione che l'intera opera una volta realizzata e completata comporterà un indubbio vantaggio per tutta la collettività posto che si prevede un incremento di posti di lavoro di 100-120 persone che oggi è un numero di tutto rilievo per la comunità di Mairano soprattutto ove si consideri la grave crisi che sta attraversando il mondo del lavoro ma non voglio annoiarvi perché oggi è un giorno di festa sono certo ad opere ultimate sarà la nuovo stabilimento a mostrare a tutti quanto la famiglia Franchini ha creduto nel proprio paese ringrazio quindi la mia famiglia i miei collaboratori ed i miei consulenti i dirigenti e le maestranze della Franchini Acciai ma soprattutto chi mi ha insegnato i segreti del mio lavoro ed ha reso possibile la mia crescita umana e professionale molte delle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso di crescita non ci sono più ma oggi qui vedo i loro volti e mi sembra di scorgere un sorriso di approvazione grazie grazie scusatemi per le emozioni grazie 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 grazie